Vira Traction 2018, siamo con Massimo Quercioli e Marco Forte. Quest'anno riconfermate la vostra presenza con un ampliamento del vostro portafoglio. Sì, dopo il successo di anno scorso, come Commissione Vira, abbiamo cercato di riproporre il successo, sperando che sia ancora migliore dell'anno scorso. Abbiamo ampliato il portafoglio prodotti, abbiamo metto dei prodotti che noi riteniamo esclusivi per il nostro mercato. Cerchiamo di qualificarci come qualità e come professionalità e cerchiamo di dare qualcosa sempre di diverso ai nostri soci, che sono 120 soci in tutta Italia. E quali sono i prodotti su cui puntate maggiormente? Ora siamo sempre di più puntando sulla alta specializzazione, quindi marchi ricercatissimi dove abbiamo un'altissima qualità. Siamo noti per essere dei selezionatori, non siamo produttori. Quindi ovviamente il nostro gruppo, in particolar modo anche la Commissione Vira, della quale facciamo parte, sta lavorando sempre di più in un discorso di selezione, quindi dalla Germania, all'Inghilterra, al Belgio. Nello specifico siamo presenti con Koenig Pilsner, Theodor Koenig Duisburg, dalla Germania, che sono marchi noti di altissima qualità, dei quali non dobbiamo dire nulla. Bellissimo birrificio inglese di Diva Ice Woodworth. Presentiamo tre specialità, quella che sto bevendo io è la Eris Special IPA, una IPA classica britannica da 6 gradi e 2. È una Stout, è una Stout fatta con dei criteri proprio inglesi particolari, non ha nessuna affinità con Guinness, è un prodotto molto più caffettoso, come diciamo noi, beverino. Speriamo di trovare l'incontro anche, andando incontro anche ai nostri consumatori, ai nostri clienti, e che abbiano un successo come noi ci speriamo. Allora direi che potete fare un brindisi adesso. Salute!